e ciao ragazzi sono indoraptor 20 da 0 e benvenuti a un nuovo episodio di indoraptor 20 da 0 oggi ragazzi sono iper felicissimo perché a brawl ragazzi ho trovato collette non l'ho sbloccata ma l'ho troppo trovato ho fatto questi screenshot e l'ho trovato in questa cassa enorme che ho appena riscattato la vedete e io pensavo di trovare la soglia 30 di sbloccarla ma in realtà l'ho trovata in questa cassa enorme qui che vedete che ho sbloccato cioè vedete c'è l'ora e quindi vi faccio vedere anche a brawl ragazzi e aspettate guardate l'ho trovata in questa cassa enorme vedete non qua l'ho trovata seriamente sono troppo felice ragazzi e lo so comunque domani ci sarà un piccolo box opening che aprirò tutte queste qua che è sopra perché domani lo scioppiamo anche il brawl pass e fino a questa alla soglia 30 che quindi non la sblocceremo potremmo anche vedere cosa succede se ho già collette collette doppione bene comunque ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace e da me sono felicissimo che ho trovato collette ciao ragazzi ciao